La risposta è sì, se non c'è un trattamento appropriato. La risposta è nì, se il trattamento è invece appropriato. Mi spiego meglio. Se ho una condizione di depressione che è sostenuta dalla carenza di ormoni tiroideo, cosa tutt'altro che rara, anzi molto frequente, questa depressione dovrebbe migliorare con il trattamento sostitutivo. Quindi se Sonia sta facendo una terapia appropriata con ormoni tiroideo, è verosimile che questa componente della depressione possa sensibilmente migliorare. Ma attenzione, perché tutto ciò che ha a che fare con la sfera psichica, con la sfera psicologica, con la sfera anche psichiatrica, come nel caso di un sintomo come la depressione, ci sono degli elementi di mantenimento di complicazioni.